ciao ragazzi benvenuti allo shop del 30 novembre ultimo giorno di shop domani sarà dicembre ormai andiamo a vedere lo shop mi raccomando iscrivetevi un bel pollicione in su e se volete supportarci col codice creatore il codice asset sport come sempre andiamo su e vediamo lo shop allora però minute trinity bellissima schiene da 800 vbac non fermarti mai dai sempre il massimo forza di fuga è il 7 capitolo 26 avanti con trina nel suo dorso un sacchiotto con le vende uccito sui tuoi incubi uroboru ragione 7 di decimitato di barbari quanti come il paradosso e il suo dorso 1500 vbac ragione 7 senza limiti visione icone visione lo suo occhio azzurro e poi del settimo uroboru lo sguardo fisso c'era in questa stagione 7 800 vbac trovati con la vita di bruta il delta plan 500 vbac l'immortale della guglia molto bella pizza skin con il suo dorso da 1.500 vbac skin e dorso capitolo 2 stagione 6 parlo del settimo guglia incombente la magia lascia sempre il segno quanti che ha proposato se c'è il frammento di guglia molto bello questo strumento di raccolta 1200 vbac credo che sia altri 7 qua quando ormai più con 7 oggetti da 3.000 vbac c'è il corvo con il suo dorso la devastazione con il suo dorso avali molto bella il piccone becco di ferro tutto allora queste sono della stagione 3 mentre questa è la stagione la devastazione stagione 5 però il delta plano e le prime oscure come scia trova il maestro dei cieli cupi 7 mp a 3.000 vbac se vi volete prendere singoli 2.000 per l'incorvo 2.000 per la devastazione 800 per il becco di ferro 800 anche per il venta plano per il muto non devo vedere starli starli lo suo dorso a stendina 1.200 vbac in due viveri in apparecchione stagione 10 perché era sempre in centro dalla stagione 6 800 vbac ai 2 stili quel che è BANG DABOY al di 2 stagione 3 800 vbac l'animato 800 vbac al di 2 stagione 3 al di 3 al di 3 a Passo di Graza il dolore morti scigato di 2 stagione 6 200 vbac caldo caldo al di 3 2 stagione 4 al di 3 2 stagione 4 il marshmallow costato 500 vbac Tutto il secolo di Svapri ci sono i vari pacchetti già realizzati precedentemente pacchetti leggende polari 20 euro praticamente 19,99 quindi pacchetti di ristrazione Svaiver 2002 per tutto il resto insomma di pacchetti associati ormai la crew dovrebbe partire con la nuova da lunedì martedì no per quel lì ma siamo già martedì allora lasciate un bello pollicione al video iscriviti al canale alla prossima ciao ragazzi a domani